ok e sono quelli a matrimonia? chi sono questi due? ah si c'entra? eh scusa perché vuoi vedere quelli a matrimonia? no 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 sono quelle che ti salutano che dicono ciao sai che dici sempre io saluto sempre loro e loro non mi salutano mai eh è vero adesso vediamo se va...quanto casino che c'è quel tendone là ma va bene lo stesso sei pronta? mh ciao nonna luigina ti salutiamo tanto da parte di tutti e niente ciao bacioni e sei meravigliosa ciao 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 nonna luigina sei bellissima e ti seguo sempre vorrei essere tua nipote ciao ah è questa che è venuta a trovarmi forse ciao nonna luigina volevo salutarti e dirti che sei simpatica dolce sei proprio la nonna perfetta sei una persona buona ed è un piacere ogni volta vedere le tue i tuoi video le tue foto perché trasmetti sempre allegria e dolcezza spero di riuscire a conoscerti ciao ciao nonna luigina sei fantastica un grande bacione da camilla ciao ciao nonna luigina un bacio immesso un abbraccio grande come il mondo ti voglio proprio bene grazie ciao ciao chiara sono tutti veramente ciao nonna volevo dirti che sei fantastica mi fai morire dalle risate ogni volta che ti sento e ti auguro tante cose belle ciao 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 nonna luigina io sono roberta la ragazza che ti aveva consigliato di come passare il cordoncino nel del pantaloncino di tuo nipote davide io ti seguo già da un po' di mesi e dovevo dirti questa cosa ogni volta che guardo i tuoi video non fai che rallegrarmi la giornata quindi sono davvero contenta di averti conosciuta così tramite social ti abbraccio forte forte e spero un giorno di poterti conoscere di persona un grande bacione dalla puglia ciao sei dalla puglia nonna luigina un bacio fortissimo ti seguo sempre luigina un bacio ti vogliamo tanto bene grazie per la tua saggezza e per la tua simpatia caro nonna luigina ti voglio un mondo di bene perché mi ricordi troppo la mia nonna amante delle mucche della campagna rospante semplice ma con un cuore enorme sei fantastica tieni duro ti vogliamo bene e ti mando un bacio enorme e che dire sei la nonna più bella più buona più giocherellona simpatica del mondo ti voglio un bene dell'anima io ti seguo sempre guardo le tue foto i video simpaticissimi che fa davide e anche che fa claudio e niente ti voglio bene sei un girasole tanti bacioni dal veneto tanti baci tanti 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 ciao nonna bella pomeriggio nonna luigina io la seguo sempre tutte le volte che posso vengo a cercare i suoi video e gli sto facendo uno e spero che riesce a vederlo che ce la farà a farglielo vedere suo nipote perché ci tengo veramente tanto perché vorrei dirle che lei è fantastica è una nonna veramente speciale e quando suo nipote le dice quante persone quanti milioni di persone la guardano è verissimo perché noi in lei ritroviamo i nonni che non abbiamo più quindi continui a sorridere tutti i giorni ad essere felice ad essere piena di grinta perché ce la dà a noi la grinta e siamo veramente felici di vedere nonne come lei su questi social quindi mi raccomando l'aspettiamo puntuale ogni giorno con un suo video un bacione salve luigina volevo dirle che è la nonna che tutti vorrebbero e che quando ho una brutta giornata e guardo i suoi video mi fa stare meglio vi mando un grosso abbraccio ciao ma guarda quante hai visto? ma chi ad esempio li vede questi qui questi video qui? loro solo te eh? solo te ah sì? perché? eh vabbè perché magari cioè la zia Emilia non li vede non puoi dirle no posso farglieli vedere se vuoi cioè sono sul computer non sono sul sul telefono degli altri ma chi è che ha il computer? oggi glieli facciamo vedere ah la zia Emilia può gli altri li teniamo per noi ma quanti mi hanno sorriso? tanti tanti eh ma sono dei numeri che mezzo milione ma che mi parlano che mi sorridono tanti sono eh insomma più o meno eh nonna ma fino a quanto sai contare? non lo so tanti che mi fanno sto video qui? che ti scrivono ah ogni giorno tre a quattrocento vuoi leggere dei messaggi? sono tantissimi adesso c'è ancora quella lì cancellala mi continuo a sorridere quella lì vuoi salutarli? saluto tutte le persone che mi hanno mandato dei messaggi e degli abbracci e dei baci e delle belle parole proprio veramente mi consola perché credevo che nessuno mi guardava invece mi guardate e mi ammirate e mi dite che sono brava allora sono molto contenta e felice brava cercherò ancora di essere brava ecco voi mi guardate vi saluto tanto vi mando anch'io tanti tanti baci e tanti abbracci tanti 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 bacioni va bene ciao a tutti un abbraccio a tutti quando devo spegnere alza il braccio quando devo finire qua alza il braccio se no se vuoi dire altro continua se no alza il braccio ciao ciao non hai alzato il braccio eh non ho alzato il braccio allora adesso te ne leggo un paio veloci se vuoi non ho alzato il braccio